E' un tema, quello di ripensare alla formazione, veramente molto consistente, che abbraccia moltissimi aspetti. Abbiamo convenuto che il tema fondamentale su cui dobbiamo concentrare l'attenzione sia quello della formazione dei formatori, dove i formatori sono intesi in senso molto molto lato, quindi vanno sostanzialmente dal corpo degli insegnanti ai formatori aziendali, in realtà però inseriti in un contesto nel quale ci sia la possibilità di riconoscere come aventi lo stesso valore, lo stesso riconoscimento culturale e sociale, percorsi di formazione che passano o attraverso i percorsi ordinamentali, quindi arrivano a livello universitario, passano attraverso percorsi che non sono, scusi, che sono sia ordinamentali ma attraverso percorsi di formazione professionale, sia di primo livello che di alta formazione professionale e di alta anche formazione all'interno del sistema delle aziende.